Ricavi totalmente sottratti a tassazione per oltre 190 mila euro per un ristorante e per oltre 820 mila euro per un bar. Le due maxi evasioni fiscali sono state scoperte dai finanzieri della tenenza di Porto Cesareo dopo i controlli in un ristorante nella stessa Porto Cesareo e in un bar nel comune di Veglie. L'attività delle fiamme gialle rientra nell'ambito dei controlli economici in campo su tutto il territorio, entrambi gli esercizi sono risultati evasori totali per alcune annualità, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini fiscali e al versamento delle imposte dovute. Le verifiche della Guardia di Finanza hanno preso il via da una mirata analisi di rischio e delle risultanze delle banche in uso al corpo e da qualificati elementi informativi raccolti sul territorio. Sono state quindi avviate specifiche attività ispettive che, spiegano i finanzieri, hanno permesso di ricostruire il tutto attraverso l'esame della documentazione contabile degli esercizi commerciali. Contrastare l'evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di ripresa e rilancio dell'economia dell'intero Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini, ovvero pagare tutti per pagare di meno.